E' ripreso dopo la pausa estiva il processo per i fatti di linea d'ombra, oggi grande attesa in particolare per la deposizione di tre testimoni convocati in aula dalla difesa dell'ex direttore del centro commerciale Pegaso Giovanni Barone, cioè Alfonso Ornella e Rossella Anaclerico, i tre figli di Luigi Anaclerico, fondatore dell'omonimo gruppo Calzaturiero, le cui accuse, le cui dichiarazioni rese a sommaria informazione, dai carabinieri prima dell'esecuzione dell'arresti avevano fortemente aggravato la posizione dello stesso Barone, tanto da portarlo in carcere prima e ai domiciliari poi. Ebbene i tre Anaclerico, uno peraltro era già stato sentito qualche settimana fa, hanno sostanzialmente confermato la linea che già il padre aveva dettato a maggio, quando era stato sentito come testimoni della pubblica accusa, e cioè hanno confermato che con Giovanni Barone ci sono sempre stati buoni rapporti, rapporti di amicizia e di frequentazione anche fuori da tematiche legate alle rispettive professioni. In particolare Alfonso Anaclerico, che già era stato sentito come testa del PM insieme al padre, ha confermato che quel termine, pressioni, da lui verbalizzato nella caserma dei carabinieri di Pagani al momento della sommaria informazione come testimonia durante le indagini, lui lo aveva riferito a pressioni psicologiche più dell'ambiente sportivo, paganese, salernitano e nocerino, rispetto alle sponsorizzazioni delle squadre di calcio, ma assolutamente non alle eventuali pressioni da parte di Giovanni Barone. Giovanni Barone che poi ha preso la parola per una breve dichiarazione spontanea, ha confermato di essere innocente, di non aver mai minacciato nessuno, di stimare, di voler bene alla famiglia Anaclerico, da sottolineare che mentre lui leggeva la sua dichiarazione, uno dei tre Anaclerico, Ornella, piangeva, molto commossa, ha detto nella sua deposizione la signora Anaclerico che si sentivano in colpa perché le loro dichiarazioni erano state completamente fraintese. Grande attesa anche per la prima udienza celebrata senza uno degli avvocati della difesa, l'avvocato Albano, che è indagata per una supposta subornazione di testimonia. A fine udienza anche una dichiarazione spontanea da parte di Alberico Gambino che ha spiegato come in una piccola comunità come quella di Pagani, che spesso dal sindaco ci si rechi per qualunque disagio e ha fatto l'esempio di telefonate che gli arrivavano a casa anche per fontane o problemi di casa che non funzionavano. Quello che è stato l'errore di chi ha indagato è considerare che Rossella è un nome molto comune e quindi evidentemente hanno pensato che potesse essere Rossella Anaclerico. Un errore che però si è trasformato nell'informativa e in una sorta di rapporto ovviamente privilegiato tra Barone e Rossella Anaclerico, il che è gravissimo sotto il profilo personale, ma ancora più grave direi per il processo perché si pensava e si ipotizzava in quella informativa che vi fosse stata una subornazione da parte delle sorelle nei confronti del padre e del fratello. Cosa che ripeto assolutamente non è. L'ultima domanda gliela faccio sulla deposizione di Alfonso Anaclerico che ha ribadito di non aver mai subito pressioni né tanto meno minacce e che rispetto alla vicenda della sponsorizzazione della Paganese chiama in causa Salvatore Bottone? Ma questo mi pare... Guardi, l'accusa nei confronti di Giovanni Barone abbiamo sempre detto che innanzitutto è per certi aspetti illogica perché in fondo queste due persone sono così amici. Ad un amico non ci si rivolge dicendo o mi fai questo se no. È assurdo. Giovanni Barone al massimo avrebbe potuto forzare sul tasso dell'amicizia per ottenere quello e nemmeno così è stato. Tant'è che in realtà era l'intera Pagani interessata a questo problema e soprattutto tutti i politici di Pagani che volevano che questa squadra non retrocedesse. Giovanni Barone non ha mai visto partite in vita sua.